Oh finalmente siamo rivissuti su Skyrim Dopo secoli mi trovo totalmente cambiato Perché non so se vi ricordate ma vabbè ci sono tutti i video Tre forse In pratica avevo iniziato la gilda dei ladri Poi non mi andava più il microfono Avevo provato a fare delle registrazioni ma non mi andava più il microfono E quindi ho detto vabbè attaccati E ho continuato a giocare ormai senza più idea di registrare Poi cosa è successo? Miracolosamente mi è ripartito il microfono Miracolosamente cioè ho riguardato tutte le impostazioni E ora dovrebbe andare Spero Se non sto parlando a caso ancora per un quarto d'ora E ok cosa è successo? Ho iniziato la gilda Ho iniziato la Confraternita degli assassini Da come si può vedere dalla Armatura Ho finito quella dei ladri Dall'arco Nightingale Dalle frecce orchesche Perché ho le frecce orcresche Orcresche si Mi rimetto Quelle di ferro perché io amo Essere la merda Hola Cos'è cambiato? Cos'è cambiato? Che dopo mesi che non facevo video Mi è ritornata la voglia Anche se ormai Non sarà più come prima Perché ho fatto tutta la gilda dei ladri E Bam Quindi Perché sono su Skyrim Perché sono andato avanti E ora il microfono mi va Quindi ho voglia di fare un video In prima persona Ah Mi hanno appena Attaccato dei banditi Stronzi E uno mi è anche entrato in casa Ma non si sa dove si è andato Si sta qua a casa mia Che bella che è Allora volevo farvi un attimo vedere Forse ce l'avete già Ma vabbè non importa Per chi ha Skyrim Comprato Vi è una mod carina Nel workshop di Steam Che Mi è sembrata caruccia Infatti qua ci Questa è una partita con Una venticinquina di mod Installate dentro Quindi facendo il giro lungo di casa mia Vi voglio far vedere questa armatura Allora Come se si può affettare Sembra un'armatura da samurai Ma Ha questa C'è anche adesso Aspettate Questa mantellina carina Sulla spalla sinistra E Una Maschera molto carina Che cosa Mi piace di questa armatura Boh Mi piace appunto E quindi Volevo farvelo soltanto vedere Si chiama Nella mod Bosmer Armor Pack 1, 2, 3, 4 Ce ne sono 4 Boh Cos'è voglio farvela vedere E Ora Che se può farsi Può andare A caccia di cazzate Enormemente Si 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 Sempre se mi Carica Il Salvacoso Eeeh Ok Dove siamo? Siamo nei pressi di Folkrit Si Eh Un martello e uno scudo Mi hanno fatto spavento Assai E Siamo nei pressi di Folkrit Perché avevo voglia Di farmi una casa E Avevo voglia Di fare la missione Del Dell'anello di Orsin Però Non ho voglia Di fare la missione Adesso Ergo Un cervo È mio Da notare anche Che sono passato Dalla terza persona Che usavo Nei Non ci vedo un cazzo Aspettate Perché Cazzo Non l'ha beccato Ehi Ma Ok Se l'ho beccato adesso Mi amo No Ovviamente Perché cazzo Non l'ho beccato Gli ho trapassato la gola Praticamente È sempre infame È sempre infame Vabbè Fa niente E noi loro ce ne andiamo Volevo Eh vabbè ma fatemi parlare Un attimo Volevo fare la missione Dell'anello di Orsin Ma adesso non ho voglia Quindi Andrò In giro Per Skyrim A cazzeggiare enormemente Qui Ho sentito una freccia Ah Infami Dove siete Schifosi Vediamo Se sto a vedere una freccia Forse sul ponte No non sono sul ponte Ok Avviciniamoci Molto Silenziosi Basta Ma mi vedo Ah Infami Eh Perché non riesco a beccare niente oggi C'ho le frecce fatte Di ectoplasmi Trapassano la gente Vabbè proviamo così Scusa Non capisco perché Mamma mia quanto urlo Non ho più Mamma mia ma che schifo Mamma mia che schifo Ok Oh Allora funziona Yeah Ok Sono qui A passeggiare E voi Stronzi Mi attaccate Perché volevo soltanto fare una passeggiata vicino al vostro bellissimo ponte Qui non c'era nessuno Vabbè io mi siedo un attimo Ecco Da Da notare Anche La mod Delle frecce Nel senso che Queste frecce Non sono più Come erano prima Nel senso che Prima Ti beccava alla spalla Te la trovavi Nel fianco Sinistro magari Ti beccava alla spalla destra E ti trovavi la freccia Nel fianco sinistro Questa mod Ehm Mette La freccia Nel punto esatto In cui ti è stata scoccata Infatti Guardate qua Che bello Che sono Sono diventato un cerbiatto Ebbè sono un elfo dei boschi Ha anche senso la cosa Ehm Issa Ok Perché ho l'amuletto di Mara Non lo so Era l'unico amuletto che avevo Dovrei incantarmene uno Sono l'unico elfo incantatore Elfo dei boschi incantatore Qua Ok Ehm Andiamo di qua allora Sempre l'arco alla mano Non si sa mai Potrei Potrei Prendermi le frecce Dalla spalla A sto punto E tirarle Però non posso Perché Questo non è Un gioco possente Qui c'è una torre Dei banditi Presuppongo Potremmo Entrare Di spugnarla Perché no Dai si Entriamo Tanto abbiamo ancora Cinque minuti Penso Alalalalalala Che bello l'arco Nightingale Non l'avevo mai volutato E' l'unico arco possente Che ho adesso Mi sa Si in effetti Non ho fatto Granché in questo gioco A parte Giocare Al DLC Downguard Che sto continuando Che sto continuando abbastanza Infatti Che missione sono arrivato Giusto per curiosità Magari faccio Sono stra indietro Magari Recluta Cos'era questa Ah si Ah si Si Dovevo reclutare I due I due cosi I due Esserini Per i downguard Ok Siamo arrivati Dove Torre del picco Ombroso Si dai va bene Per un Nightingale Può andar bene Non c'ha la porta Sento le api Sento le api Aiuto Ma no Ah No Non era un ape Era un Vai via Non mi aspettavo Di trovarti No schifoso Lercio Lurido Devi morire Non erano api Ecco Vedete queste frecce Come sono Perfette Sono Nel punto esatto In cui le ho scagliate E' una cosa Che non si era mai vista Prima A parte il fatto Che ne posso prendere Due su quattro Ma lì ce ne vedevo Quattro Però fa niente Sono i miracoli Di Skyrim C'è questo Posto C'aveva dentro Soltanto Oh Aspettato Qui c'è un Barule Dice si anche Barule Perfetto Abbiamo guadagnato 20 monetine Scintillanti Din 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 E ora Voglio scalare Questo Coso Quindi farò Una scala Di frecce E ora Scaliamolo No Vabbè Ste frecce Quale lascio Lì perché So carina E andiamo di là Andiamo di qua Passiamo a passeggio Ma non c'è niente Da fare Cos'è Si è quello Che penso Che sia Un tumulo Tumulo Lullullullo Tumulollo Potremmo andarci Potremmo andarci Però Non ci andremo Perché siamo Persone Helgen Dovrebbe essere Helgen Questa È vero Che Non Non è vero Ho mentito Spudoratamente Scusatemi Non volevo Oh Che bello Essere tornati Nel paesino Delle Licantropi Infatti Qui dentro C'è un Licantropo Però Vabbè Praticamente È il paesino Degli orrori Questo qua Ci sono Dei vampiri Che escono fuori Dal cimitero E un Licantropo Imprigionato E io Puzzo Di cane Fradicio Vi chiederete Perché Puzzo Di cane Fradicio Perché sono Anche Un Licantropo Ma Non lo Diciamo A nessuno Voglio Beccare Quell'insegna Ecco Se becco Una Guardia È Il Colmo Scusa Non volevo Farti Paura Eh Difatti L'ho Dove cazzo È finita La mia freccia Ah ma Ah Sono Barilotti Va bene Eh Amici miei Purtroppo Devo Lasciarvi Di nuovo Dopo mesi Devo Lasciarvi Perché Sennò Storo Tutta notte A mettere Sul video E non Mi va Quindi Con Un Cartello Che Giroglio Lalla E Con questa Bellissima Luna Che bello C'è la luna Diventerò Un licantropo Mi sa In questo Paesaggio Molto Suggestivo Io vi saluto E ci si vede Al prossimo Video Ciao a tutti Ciao a tutti